Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video qui sul canale. Oggi parleremo di un'applicazione che secondo me molti di voi non conosceranno ma che è davvero formidabile. Ma questo dopo la sigla. Ma di cosa voglio parlarvi oggi? In particolare voglio parlarvi di Notion. Notion è una delle applicazioni che secondo me è migliori per quanto riguarda prendere appunti, organizzare la propria vita. Ma anche allo stesso tempo organizzare un viaggio, qualsiasi tipo di cosa. Tenere la gestione dei soldi, qualsiasi cosa che voi vogliate. È dunque un posto dove posso prendere note? Certamente. È dunque un posto dove posso organizzare la mia vita con dei to-do list o delle tabelle? Certamente. Quindi va un po' a unire Word, il solito Word diciamo, con Excel. E lo fa in modo intelligente, creando dei tag, creando dei particolari caratterizzazioni che vogliamo dare a quella tabella o a quel tipo di elemento. In particolare un'altra funzione che secondo me è molto molto utile è quella di creare pagine infinite. Ora, come stai vedendo, questa è la mia pagina principale. E qui ho organizzato già tutto quanto secondo i miei piani, in modo preciso. Come potete vedere, al centro c'è la parte che uso per la scuola, a sinistra la mia vita personale e a destra, tra virgolette, il mio lavoro. Che magari un giorno diventerà seriamente il mio lavoro, anzi lo spero. Quindi, uso questa applicazione anche per scuola? Certamente. Uso solo questa? No. Guardate, andate a vedere anche il video, vi lascio la scheda qui sopra, del video che avevo fatto in merito alle migliori applicazioni per apprendere appunti con iPad. E gli spiego tutto quanto, ma sinceramente non uso solo Notion, ma uso anche un'altra applicazione proprio per scrivere appunti con la penna. In particolare possiamo creare delle pagine infinite, solo quelle che vedete qui sono solamente delle piccole, delle prime pagine, dove dentro ci sono su pagine, su pagine, su pagine, su pagine. Potete creare davvero pagine infinite all'interno. Quindi, è possibile organizzare tutto quanto in modo davvero molto ordinato. Come potete vedere, quindi, la mia lock screen, la mia lock screen, la mia home è davvero molto organizzata. Se io vado dentro subject, ci sono tutte le materie e dentro ogni materie ci sono gli appunti di quella materia divise per argomento, dove ho creato un'asposio tag per riconoscerle e differenziarle in modo molto semplice. Ad esempio, appunti, esercizi, se devo andare a trovare un appunto, vado a cercare degli appunti, non tra gli esercizi. Quindi, vi permette di essere davvero molto, molto organizzati. Ma non finisce qui, oltre a creare pagine, appunto, come ho detto prima, bisogna creare dei veri e propri database, dove, come ho detto anche prima, creare questi tag, insomma, che vi aiutano un po' nel ricercare poi successivamente le note che scrivete. Ma non finisce qui, potete creare anche dei to-do list, dei toggle list, che a mio parere sono davvero molto, molto utili, quelli che state vedendo in questo momento, che vi permettono di nascondere un mega argomento in un unico titolo. E questo è molto utile, ma, ad esempio, dovete ripetere. Quindi, magari vi mettete come titolo la domanda e poi, dentro la domanda, dentro il toggle, vi mettete tutta la risposta. Così, se non sapete la domanda, andate a vedervi la risposta e basta. È una funzione, secondo me, davvero molto utile. È possibile inserire anche delle vere e proprie immagini, PDF, collegare applicazioni anche come Google Drive, ma non finisce qui, ci sono miliardi e miliardi di cose che potrete fare, attraverso, appunto, l'apposito menu che vi consente Notion. In particolare, però, avete un massimo di upload di 5 mega per PDF e foto, in quanto la versione caduta comprende questo. Mentre, se volete qualcosa in più, dovete andare sulle versioni a pagamento, che, sinceramente, secondo me, non è molto, molto indispensabile. Non è poi così tanto indispensabile, ma, magari, per chi lavora, può essere davvero molto utile. Ma, ma già così, davvero, è spettacolare questa applicazione. Se siete naofiti, Notion vi offre anche numerosissimi template a disposizione. Template per la scuola, template per la vita, per il lavoro, per i viaggi, per qualsiasi tipo di cosa. Quindi, vi aiuta da questo punto di vista, vi crea già dei template personali, template per ogni tipo di argomento e voi vi scedete il vostro, ma sta solo a voi. Poi, sbizzarrivi per creare la vostra fantasia. Come potete vedere, è anche un po' più dei design. Ci sono queste specie di emoji che vanno un po' a predire quello che è l'argomento e poi potete anche aggiungere nella pagina una specie di sfondo, che, a mio parere, è molto, molto bello. Quindi, cosa c'è da dire su Notion? Notion è un'applicazione davvero fantastica, sia per gli studenti, sia per una persona comune, sia per chi lavora, sia per chi viaggia davvero tanto. Quindi, io ve la straconsiglio. Non mi stanno pagando, ovviamente, per dirlo, ma da un buon utente che la prova ogni giorno e che la usa ogni giorno anche a scuola, ve la consiglio vivamente. Quindi, che dire, provatela, tanto è gratis. Quindi, al massimo, potete installarla dal vostro telefono, computer o iPad che voi abbiate. Perché, appunto, è presente sia sull'iPhone, quindi sul telefono, non solo l'iPhone, anche Android, ma anche sui tablet e anche sui Mac come applicazione. Ma c'è anche il sito a parte, se, appunto, non volete scaricare direttamente l'applicazione. Funziona, a mio parere, molto utile. Quindi, dunque, scaricate questa applicazione, poi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.